Ben trovati alle TG Med Sport, la ventottesima giornata in Serie B si è aperta con la vittoria dell'Avellino 1 a 0 sul campo dell'Empoli con il gol realizzato da Izzo. Le partite che si giocano alle 15, Bari Virtusio Lanciano, Brescia Latina, Carpi Regina, Crotone Cittadella, Novara Spezia, Padova Modena, Pescara Cesena, Ternana Varese e Trapani Siena. La vittoria dell'Avellino a Empoli ha cambiato la classifica dando così la possibilità alle Palermo che gioca in posticipo alle 20.30 lunedì a Castellammare di Stabbia di poter allungare ancora sul secondo posto. Chiaramente bisognerà vedere cosa faranno le squadre nel pomeriggio di oggi. Iniziamo proprio dalla sfida del provinciale di Trapani tra Trapani e Siena con la curva riaperta per il Trapani difesi dall'Avvocato Chiacchio a centro campo. Basso che rientra dalla squalifica andrà a destra recuperato. Anche Iunco ovviamente grande attesa per questa sfida contro il Siena anche perché c'è da cancellare la beffa di Cesena. Sarà una partita difficile ma allo stesso tempo dobbiamo pensare che è una partita che possiamo vincere. Quindi domani si va in campo con l'intento di prendere i tre punti. Ma intanto a me come allenatore non mi interessa mettere le mani avanti e quindi dire che questi sono forti quindi se pareggiamo può essere che no. A me interessa pensare che domani si va in campo e si deve vincere. Quindi non mi interessa. È pur vero e non è per mettere le mani avanti che giochiamo con una squadra che ha fatto più punti di noi. Quindi è una squadra forte, una squadra che è retrocessa lo scorso anno ma che ha conservato nella sua rosa giocatori di talento, giocatori che hanno quasi tutti fatto la Serie A e che quindi senza la penalizzazione sappiamo a che punto sarebbero. Quindi è una partita difficile, è una partita che sicuramente avremo del filo da torcere, però è una partita secondo me alla nostra portata. Poi c'è un discorso secondo me fondamentale. Loro vivono una situazione difficilissima, economico, societario e secondo me i giocatori bravi ma soprattutto i giocatori forti da queste situazioni ne traggono beneficio perché sono situazioni in cui ti fanno uscire tutto quello con giocatori a dentro, tutto il bene con giocatori a dentro. Quindi saranno stimolatissimi perché vogliono dimostrare che nonostante tutte le difficoltà loro sono lì sul pezzo, che nonostante il fatto che non prendano soldi o cose varie loro vogliono dimostrare di essere i numeri uno e quindi questo farò uscire fuori da ognuno di loro il massimo e allora anche per questo sarà una partita difficile. Il Siena di Beretta senza Feddalle, Matteo e Raffa Giordà, Beretta conferma il 3-4-3, Spinazzola confermato titolare, da ieri la squadra è già in ritiro a Trapani. Per quanto riguarda invece il Palermo, è un Palermo che con fiducia si avvicina al posticipo di lunedì sera rinfrancato ancora di più dalla vittoria dell'Avellino sull'Empoli, un bonus da dover giocare senza sprecare altre occasioni. Giuseppe Iachini lo farà soltanto con Di Bala in avanti tra gli attaccanti disponibili perché Hernandez è infortunato, Belotti non ha ancora recuperato e non viene rischiato sul sintetico mentre l'Afferti è squalificato. In Serie A invece il Catania di Rolando Maran ha l'opportunità di poter accorciare il distacco dalla zona salvezza affrontando in casa il Cagliari. Una partita comunque complicata per Rolando Maran che però ha la certezza di aver recuperato quantomeno i suoi due uomini più importanti in avanti cioè Barrientos e Bergessio che rientra dalla squalifica. Intanto rispetti negativi uno su tutti è che non abbiamo fatto punti e questo rimane però io ripeto perché purtroppo io tante volte vedo tanti commenti, tante cose che non rendono giustizia a quello che poi cerca di mettere la squadra. È normale che se una squadra va a Genova in un momento così delicato e priva di ma senza perché sapete come sono fatto è normale che possa perdere qualcosa dal punto di vista della forza e in grande emergenza soprattutto in un reparto abbiamo cercato di fare di necessità virtù di tutti quanti di mettere a servizio della squadra del momento le proprie caratteristiche. Ripeto e secondo me al di là delle... avevamo fatto anche un inizio con personalità, era mancata solo l'occasione però stavamo tenendo il campo bene purtroppo poi vai sotto, resti in dieci a Genova non è semplice per cui questo modo di affrontare la gara è sicuramente da parte di tutti cioè per cui sono spirito di sacrificio di tutti per poter venire fuori da questa situazione questa l'ho vista. Ovvio che era una giornata veramente particolare a Genova. No perché dopo col senno di poi siamo tutti bravi. Addirittura proprio quando mi capita di sentire alcuni commenti prima delle partite e poi cambiano dopo la partita fanno ridere, fanno sorridere perché ci si rende conto della... che poi siamo... i commenti giudizi sono legati solo al risultato invece se andiamo a vedere prima... è ovvio che vedendo il risultato puoi stravolgere tutto però le scelte vanno fatte prima non dopo. Al di là del Cagliari, degli approcci del Cagliari che ci interessano relativamente è quello che dovrà avere il Catane, che dovrà scrollarsi ansie, paure, timori e mettere invece grande forza, un grande impatto nel nostro stadio dove sappiamo, dobbiamo essere bravi anche noi a trascinare chi ci vuole trascinare e tutto questo darà forza a questa prestazione però dobbiamo essere consapevoli che l'impatto deve essere forte, deve essere quello giusto. Ovvio che dopo non era la partita che volevamo non era però, ripeto, c'erano mille difficoltà e se noi facciamo finta di non vederle queste difficoltà, commettiamo un errore perché mettiamo la croce addosso a questi ragazzi che comunque cercano di impegnarsi, cercano di dare il massimo. Poi quando facciamo un passo indietro sono il primo a dirlo, però domenica a Genova hanno provato a dare tutti quello che potevano dare, in una situazione difficile. Eh ma la squadra della Cagliari li ha si è vista nel pareto numerico, li ha si è vista tenendo il campo in 10 contro 11 in un campo dove è difficile per chiunque contro una squadra che sta mettendo sotto chiunque, per cui credo che la squadra in inferiore numerica è rimasta in partita fino alla fine, questo dimostra il fatto di come aveva affrontato questa gara, che poi c'erano delle difficoltà oggettive, questo è innegabile, però io non voglio fare questi discorsi perché non voglio, però non le si può non sottolineare. Formazione tipo anche per il Cagliari di Diego Lopez, con Avramov in porta, Pisano, Rossettini a Stori e Avelar in difesa, De Sena, Conti e Vesino a centrocampo, Cosso alle spalle delle due punte, Piniglia e Sau per il posticipo delle 20 e 45. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Medesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it. Non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Panificio Badalamenti, infinite specialità da gustare, arancine 1 euro, pizze familiari a soli 5 euro, Panificio Badalamenti, rosticceria, panificio, pizzeria, dolci classici e moderni, Panificio Badalamenti, sacca a tupane, un tennipenti, via Francesco Crispi numero 290 a Palermo, Infoline 388 9088 192